Il campo del terreno è uno scopo in scuola, ma sempre con l'amici. Il campo del terreno è uno scopo in scopo in scopo in scopo. Il campo del terreno è uno scopo in scopo in scopo. Il campo del terreno è uno scopo in scopo in scopo in scopo in scopo. Il campo del terreno è uno scopo in scopo in scopo in scopo in scopo. Il campo del terreno è uno scopo in scopo in scopo in scopo in scopo in scopo. Il campo del terreno è uno scopo in 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 c'è l'altra cosa non andate indietro uomo dai franci bravo franci franco bollano la prima libera vai ragazzi dai dietro dai dietro dai dietro dai dietro andiamo lori dai piedi ora andiamo lori fai andare fai andare fai andare fai andare fai andare vai Matte vai dai lori dai lori dai calcio dai lori alene non passa quel pallone dietro dai sulla testa sulla testa bravo alene vai lori dai piedi dai piedi dai lori 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 Grazie! ... Grazie a tutti. Dai, dai, dai. Dai Matteo, dai Matteo. Dai Matteo, dai Matteo. Dai Matteo, dai Matteo. Dai Matteo, dai Matteo. Gioca. Sali, sali, sali. Vai, un giocatore. Dai Matteo, bravo Matteo. Bravo Matteo. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. Bravo Matteo, così. Vai, due Matteo. Dai Matteo. Dai, dai. Buongiorno. 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 Bravo. Sì, dai, 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 dai. Sì, dai, dai! ci siete qua bravo 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 grazie a te prendi la pinna vai vai distanze distanze bravo 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 dai go dai solo chiudi Andre puoi rifatto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.